Buongiorno a tutti e bentrovati con la rassegna stampa di Molise TV, come ogni mattina vediamo subito insieme quelli che sono i principali avvenimenti del giorno. Iniziamo dunque la nostra rassegna stampa leggendo il quotidiano del Molise. Droga e munizioni, due arresti, hanno 25 e 20 anni ragazzi finiti in manette in due operazioni dei carabinieri. Termoli, 900 grammi di marijuana, 300 di hashish, 8 di cocaina, cartucce e 13 mila euro. La buona scuola degli studenti 2.0 è scesa in piazza. Campobasso ha risposto bene alla giornata di sciopero proclamato in tutta Italia e migliaia hanno alzato la voce. I Sernia, la provincia, ripartirà con 5 milioni di debiti sul Groppone. Montaquila, riflettori su Villaflora, chiesta commissione speciale. Termoli, marito violento esiliato dalla polizia. Termoli ancora, mare sicuro, missione compiuta, il bilancio della Capitaneria di Porto. Vediamo adesso le notizie sportive. Serie di Minadeo esalta l'ambiente, c'è un'aria diversa. Eccellenza, derby tra Venafro e Sesto, Mancini e Bianconero. Calcio a 5, Scarabbeo e Isernia impegnate nella sfida molisana. Leggiamo nel dettaglio le pagine interne del quotidiano del Molise. Si parla della manifestazione degli studenti, la scuola non si svende studenti in piazza per rivendicare il diritto allo studio per tutti. La buona scuola, gli insegnanti chiedono maggiore chiarezza sotto accusa e questionari online che non forniscono dati ufficiali. Biomasse, stasera un concerto di 24 ore per ribadire il no alle centrali del Matese. L'iter avviato in giunta regionale, riforma della legge elettorale, soddisfatto l'ordine dei giornalisti. Diabetologia, il TAR riattiva il reparto al Cardarelli, il Tribunale amministrativo accoglie il ricorso presentato dai malati. Gestione idrica, interventi per 3 milioni di euro, la giunta regionale ha approvato un provvedimento per finanziare i lavori straordinari di tutela. Il piano nasce dall'intesa raggiunta tra il governatore di Laura Frattura e gli assessori Nagni e Facciolla. Appuntamento alle 11.30, lavoro al via da oggi, gli incontri con i sindacati per studiare le vertenze. Sicurezza nelle sedi della regione, Monaco presenta un'interrogazione urgente. Passiamo adesso al quotidiano online, informa Molise, leggiamo anche qui le principali notizie di attualità di questo sabato 11 ottobre. Vediamo in primo piano la cronaca. I nor della compagnia di Termoli arrestano due persone per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Concerto del leggendario pianista Aldo Ciccolini al Teatro Savoia. Il Molise al Salone Internazionale del Gusto 2014 a Torino. Minacce percosse alla moglie di vieto di avvicinamento alla coniuge per un 45enne. Marinucci e Paradisi chiedono la valorizzazione delle consulte comunali. Lattanzio e Fusco Perrella, ordine del giorno per rafforzare il controllo delle strutture sociosanitarie e assistenziali. Il presidente dell'Associazione regionale Strutture Sociosanitarie interviene in merito alla vicenda di Montaquila. Editoria, avviato l'iter alla soddisfazione dell'ordine dei giornalisti. Filippo Monaco, dubbi sulla gara per la vigilanza in consiglio regionale. Passiamo adesso a primo piano. Molise, qua si parla di sanità, tagli al vietri, il targela, il comitato. A sorpresa i giudici respingono la richiesta di sospensiva. L'area non giustifica particolari trattamenti di favore. Decisione opposta a quella assunta per Caracciolo, invece Santissimo Rosario. Accolta all'istanza dei diabetici, a Cardarelli il reparto non sarà soppresso. Regione, prima spallata ai vitalizi degli ex consiglieri a segni ridotti fino al 15%, innalzata a 65 anni l'età pensionabile. Montaquila, la clinica degli orroli, Villa Flora, il sindaco Rossi torna a casa e mercoledì sarà interrogato. Intanto a Canale 5 i familiari dei degenti difendono la struttura. Palazzo Vitale, la cabina di regia parte con la gamma stamane l'incontro con i sindacati. Campobasso sfila la protesta degli studenti contro Jobs Act e riforma scolastica. C'è anche la cronaca. Termoli, pusher nella rete dei carabinieri arrestati due giovani per droga. Uno aveva più di un chilo di stupefacente, sequestrati 13 mila euro e munizioni. L'altro, alla vista dei militari, ha cercato di disfarsi della roba buttandola nel water. Vediamo le notizie riportate nel taglio basso di Primo Piano Molise. Provincia di Sernia, elezioni in sordina. Domani alle urne solo gli amministratori. La vigilia del voto in corso, in corsa per il vertice di Via Berta, Luigi Brasiello e Alfredo Ricci. Serie di l'Olimpia agnonese sulle tracce di un bomber. Calcio a 5 tra Benafro e Sernia. Derby d'alta classifica. Win a DV al pala Unimol. Passiamo adesso all'informazione nazionale. Leggiamo insieme i titoli riportati sulla Repubblica. L'Unione Europea avverte l'Italia. rientrate. In regola, FMI bene il Jobs Act. L'ultimatum dell'Europa serve una correzione da 2 miliardi. Renzi, cambiare il patto di stabilità. Più soldi ai comuni. Grillo al circo massimo. Meglio il cavaliere di questo PD. E la fotonotizia riguarda appunto il maltempo a Genova. Affoga come tre anni fa. Nessuno ha dato l'allarme. Accuse alla protezione civile mai fatti lavori per arginare i fiumi. Banca Italia ceda a Mediolano, ma Berlusconi non ha onorabilità. Il Nobel in nome dei bambini. Vediamo adesso le notizie del messaggero. Renzi, piano, anti-sanzioni dell'Unione Europea entro aprile. Riforme di lavoro, giustizia, fisco e pubblica amministrazione per evitare la procedura di infrazione. Le pagelle europee delle agenzie di rating. Un avviso per la Francia declassata la Finlandia. Torna l'incubo alluvione. Sindaco, nessuno ci aveva allertato. Genova travolta da acqua e fango. Una vittima. Feriti. Città del caos. Burocrazia sottoaccusa. Le opere di prevenzione bloccate da ricorsi al TAR. Tasse pagate a rate da Equitalia più tempo per mettersi in regola. Versamenti dilazionati, niente più stop. All'accordo dopo otto mensilità non saldate. Si parla anche dell'epidemia ebola, la paura americana e la corsa al farmaco. Leggiamo adesso la pagina nazionale del tempo. Vigili urbani scatenati nella capitale. Un verbale ogni due minuti, notti incluse. Multe senza sosta. Le nozze gay fanno litigare il governo. Renzi annuncia presto la legge. Pochissima gente al comizio. Grillo in stile Ben Hurrell fa flop al circo massimo. I privilegi invece della casta. La regione Lazio addio ai vitalizi a 50 anni. Mentre Genova nega lo Stato ci guadagna il business delle imposte verdi. Arrivati altri 800 rifugiati. Corcolle e una polveriera residenti sul piede di guerra. Vediamo adesso il fatto quotidiano. Genova vergogna infinita. Questo il titolo riportato in prima pagina. 2.000 licenziati. Renzi vende fumo. Altro che Jobs Act. Da gennaio un'ecatombe di posti di lavoro spariti. Il premier presentatore alla convention della nuova fabbrica Philip Morris senza mai pronunciare la parola sigaretta. Grillo a palazzo non ci fanno fare nulla. Torniamo tra la nostra gente e il Movimento 5 Stelle al circo massimo. E adesso vediamo insieme lo sport. Quindi vediamo i titoli del Corriere. L'Italia va ma che brividi. Verso Europa 2016. Battuto l'Azerbaijan 2 a 1. A Palermo fa tutto. Chiellini segna il vantaggio. Poi l'autogol al 14esimo dalla fine. Infine la rete decisiva. La Croazia passa in Bulgaria. Norvegia facile con Malta. Under pari in Slovacchia. Finali vicine. Vediamo le altre notizie di sport. Cagliani applaude Inzaghi. Ci porta in Champions. L'amministratore delegato del Milan. Difesa da migliorare. De Luca. La grinta del Bari a Catania. Segnerò io. Farò soffrire il mio maestro Sannino. Il tecnico della Juve. Moviola in campo. Allegri dice no. Tassa sicurezza. La Lega si ribella. Il calcio contro il governo. Una legge anticostituzionale. Azzurre travolgenti. Ora sognare si può. In semifinale c'è la Cina alle 20 e 45. Mondiali di volley superate. Anche le russe. Gran premio del Giappone. Moto Markets prepara il trionfo all'alba domattina alle 7. La gara che può laurearlo campione del mondo per la seconda volta di fila. Bene con questa notizia è tutto. Grazie per averci seguito. Vi lascio ora alle previsioni del tempo. Arrivederci. Previsioni del tempo per sabato 11 ottobre. Nessuna novità dal punto di vista meteorologico stante la persistenza di un robusto campo di alte pressioni. Altra giornata soleggiata ovunque salvo il nocuo e velature in transito. Temperature in ulteriore aumento. Ventilazione debole di direzione variabile a prevalente regime di brezza. Mari quasi calmi o al più poco mossi. Campobasso minima 14 massima 25 gradi. Isernia minima 14 massima 25 gradi. Termoli minima 18 massima 23 gradi. Il meteo è stato offerto da esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Grazie a tutti.